E' giunto alla quarta edizione il progetto 1943-1944 lungo la linea Gustav. Resistenza alla guerra, resistenza per la pace. Ragazzi e ragazze, raccontateci la storia che quest'anno ha visto coinvolti 111 studenti delle scuole medie e superiori abruzzesi e molisane. L'incontro pubblico di presentazione dei risultati si è tenuto a Castel di Sangro, presso il teatro Tosti, con il patrocinio del Comune e della provincia dell'Aquila. E' che noi abbiamo coinvolto, e questa è la quarta edizione, le scuole di diverse città, sia di Abruzzo che di Molise, per stimolare i giovani a fare delle ricerche su quello che è accaduto durante il fronte di guerra. Questo perché è vero che ci sono gli scritti storici, ma ci sono tanti episodi, tantissimi fatti che sono ignorati, non si conoscono e le loro ricerche servono anche a valorizzare questi fatti e l'insieme di questi fatti e di questi episodi possono costituire un arricchimento importante per la storia delle comunità locali. Questo purtroppo è un argomento attualissimo. Sì, infatti noi nella seconda parte di quella striscia che noi abbiamo messo sul Garofano parla appunto di pace per l'Europa. E costruire la pace per l'Europa oggi è un elemento fondamentale perché siamo in una situazione di cambiamento radicale, di una transizione che nessuno può immaginare come potrà finire. Certo è che noi dobbiamo rafforzare il concetto della pace. Io nella mia comunicazione che farò metterò in risalto due aspetti. Il primo è che le guerre si sono sempre fatte sulla base di un'idea nazionalistica spinta perché il nazionalismo porta al fatto che una nazione deve sovraffare un'altra nazione e questo ovviamente produce le guerre. La seconda cosa è che oggi siamo in una fase in cui la necessità di cooperare, la necessità di poter trovare degli sbocchi e l'Europa in questa è una funzione determinante, che deve spingere a creare sempre con l'Europa una integrazione, una prospettiva. Rinchiudersi nei propri stati sarebbe un errore madornale e noi vorremmo anche lanciare un appello a questi ragazzi che oggi partecipano perché il Presidente della Repubblica ha chiesto, si è augurato, che ci sia una grande partecipazione al voto per l'Europa e noi questa cosa dobbiamo spingerla e ricordarla perché è un esercizio di democrazia per respingere qualsiasi violenza e qualsiasi atto di sovraffazione che abbiamo già conosciuto tra l'altro nel nostro paese nel ventennio fascista. In sostanza, quale può essere l'insegnamento per i ragazzi, per gli studenti, per le generazioni future? L'insegnamento è soprattutto quello di conoscere la storia, di capire quali sono state le motivazioni perché hanno spinto le nazioni a combattersi a vicenda, analizzare ad oggi quei fatti, portarli alla realtà di oggi e capire che oggi è un mondo interconnesso e quindi in virtù di questo noi dobbiamo trovare le soluzioni dialettiche, pacifiche, di collaborazione per poter consentire a tutti di poter vivere serenamente il proprio futuro. Il progetto, promosso dallo SPI CGL Abruzzo Mulisse e l'Associazione Sentiero della Libertà, ha visto l'adesione dell'Istituto di Istruzione Superiore Statale Pattini Liberatore di Castel di Sangro, il Liceo Linguistico De Titta Fermi di Lanciano, il Liceo Scientifico Statale Algeri Marino di Casoli e l'Istituto Alberghiero Giovanni Marchitelli di Villa Santa Maria. Nel merito si può dire che continuano le nostre tappe all'insegna della memoria. Direi anche di utilizzare la parola ricordo che a me piace davvero molto molto di più della parola memoria. Ricordare è una parola che viene dal latino, ritornare indietro, cordium, ricordare, dal latino cordis, cuore. Quindi queste giornate sono tutte all'insegna del cor cordium, del cuore dei cuori. Perché mi piace dire questa cosa? Mi piace molto perché la memoria e tutto quello che è stato il nostro passato deve entrare in tutti i cuori. Le popolazioni antiche pensavano che nel cuore ci fosse la creazione delle parole, del pensiero, di quanto a noi più caro. E quindi è chiaro che il cor cordium deve essere per noi la memoria e la memoria fatta giorno per giorno. Non dimentichiamo che siamo all'ottantennario di fatti incredibili avvenuti sul nostro territorio. La distruzione di Castel di Sangro, la linea Gustav, Tutto quello che in qualche modo si incatena anche con il sentiero della libertà. Per cui oggi per noi è una grande festa poter in qualche modo vedere e partecipare davvero con il cuore a quanto i ragazzi e i docenti hanno prodotto. E sono sicura che ogni ragazzo, che ogni docente che ha partecipato da anni a questo progetto e continua a crederci, porterà nel suo cuore qualcosa di prezioso per costruire il suo futuro. Un futuro di pace, un futuro di inclusione, un futuro che sicuramente talmente radicato nel proprio territorio e nella propria gente darà l'energia per proiettarsi nel domani. Come possiamo contestualizzare questo evento? Appunto, come dicevo prima, l'evento si contestualizza in una serie di eventi. Sono eventi che a piccole gocce si uniscono per creare questo evento finale che raccoglie un po' tutto quello che si è fatto nel territorio abruzzese e molisano. E quindi oggi davvero auguro agli studenti, ai docenti e all'ospice CGL di passare insieme una giornata all'insegna del cuore dei cuori. Noi parliamo, torniamo a parlare di resistenza alla guerra, resistenza per la pace. Lo facciamo attingendo le nostre radici, alla memoria e lo facciamo soprattutto con il protagonismo della scuola, docenti e ragazze e ragazzi, che è la cosa credo più importante, che hanno fatto ricerca ognuno nel proprio territorio, raccogliendo anche delle storie, delle memorie e intrecciandole con le fonti documentarie, perché è importante anche l'uso, il buon uso del metodo storico. Vengono fuori anche storie sconosciute, che ci restituiscono la complessità di quel periodo, parliamo soprattutto del periodo dopo l'8 settembre del 43, ma nel restituirci la complessità e anche i molteplici aspetti della resistenza, resistenza non solo armata, ma resistenza anche civile, resistenza umanitaria, ci raccontano del protagonismo di donne e uomini e ci consegnano l'importanza di certi valori per i quali si sono sacrificati queste nostre madri e questi nostri padri, valori che sono importanti ancora oggi, valori che hanno portato alle battaglie per i diritti, diritti che vanno riconquistati giorno per giorno. E allora, se durante la resistenza in tante e in tanti imbracciarono anche le armi, lo fecero per costruire la pace, ce ne hanno lasciato testimonianza. E noi oggi ci chiediamo quanto sia importante l'impegno di ciascuno, la responsabilità di ciascuno anche nel costruire la pace, a partire da se stessi, dal modo anche di relazionarsi e rapportarsi con gli altri. Io parlerò, parlando con i ragazzi, ricordo sempre le parole di Natalia Gainsbourg, grande scrittrice che fu al confino qui in Ambrusso, che disse l'importante oggi a distanza di tempo, lei lo scriveva negli anni 90, è importante capire che dobbiamo dire no a qualsiasi forma di violenza. Noi ci siamo battuti per costruire un'Italia migliore, un paese migliore e adesso affidiamo ai giovani e alle giovani il compito di costruire, di portare fino in fondo quella che è stata la nostra missione. Gli alunni coordinati dai rispettivi docenti si sono cimentati in una ricerca finalizzata alla conservazione della memoria degli avvenimenti della Seconda Guerra Mondiale e la memoria come conoscenza del passato e radici del futuro al centro del progetto, con l'intento di rafforzare la conoscenza di quando è accaduto dopo l'8 settembre del 43, resistenza armata e umanitaria nascita della Repubblica, paragonandolo ai grandi temi sociali e politici di oggi. L'obiettivo è di favorire la consapevolezza che la pace e la convivenza tra i popoli sono il bene più prezioso. È un'occasione molto importante per noi, soprattutto per i ragazzi, per riflettere sul valore della storia, sull'importanza dell'insegnamento che ci viene dal passato, al fine di costruire un futuro, e non deve essere ovviamente retorico, incentrato sui valori della solidarietà, della resistenza, ma soprattutto della pace. Il senso fondamentale è appunto questo. È un argomento comunque attualissimo, purtroppo. Sicuramente attuale, che va affrontato in maniera corretta, priva e scevra dalle varie posizioni ideologiche. Il rischio è proprio questo, di stare da una parte piuttosto che dall'altra, esasperando una posizione piuttosto che l'altra. L'obiettivo comune è quello invece della diplomazia, del lavorare insieme, di costruire un percorso di crescita comune che consenta alle varie nazionalità, ai vari popoli, di avere il pieno riconoscimento dei propri diritti. E la storia in questo senso ci aiuta, perché pensare alla linea Gustav, pensare al processo di resistenza che si è sviluppato in Italia, costituisce le basi per un futuro democratico. La nostra stessa Costituzione è figlia di questo percorso. Cos'altro possiamo dire in merito a questo importantissimo evento? È un evento che ormai ha una cadenza annuale, che arricchisce il percorso scolastico dei nostri studenti, è collocato all'interno dello stesso curriculum e nel progetto Memoria. È una memoria che si fa solida nel presente e che sia ancora al futuro. È un evento a mio avviso molto importante. Importante perché? Perché consente di avvicinare i giovani al tema della resistenza. In particolare con le classi che seguo ho cercato proprio di fare un lavoro che fosse di emozione soprattutto. Abbiamo pensato di medesimarci nei panni di quelli che sono stati gli uomini, le donne, ma soprattutto i giovani che hanno fatto e sono stati proprio la resistenza italiana. Proprio perché consente ai giovani di entrare nel vivo di quello che è la tematica della resistenza. Quindi di capire effettivamente cosa c'è sotto, cosa c'è stato, cosa ha spinto i nostri ragazzi, i nostri giovani italiani a dire il no a quello che era il periodo storico, la guerra che c'era in quegli anni. Il tema della guerra purtroppo è attualissimo. Mi viene sempre da dire che la storia dovrebbe insegnarci, dovrebbe insegnare e soprattutto dovrebbe insegnare a non ripetere quello che è stato. Purtroppo invece ci troviamo tutt'oggi di fronte a teatri di guerra atroci, massacri insomma incommentabili e purtroppo mi piacerebbe che questo grido di pace si diffondesse a partire proprio dalle nuove generazioni, quindi dai nostri ragazzi e poi arrivasse fino a tutte le generazioni future. L'Abruzzo nel corso della seconda guerra mondiale è stata veramente una regione cerniera, qui sono caduti fatti straordinari e tragici, drammatici e soprattutto la linea del fronte è stata ferma per mesi e mesi dall'autunno del 43 alla primavera estate del 44 coinvolgendo intere popolazioni in esperienze drammatiche. Ormai nel novecento i civili sono stati sempre più coinvolti nelle guerre ed è necessario quindi riflettere su questo, le guerre contemporanee sono guerre civili, sono guerre che danneggiano non solo i territori interi ma soprattutto le popolazioni che le abitano e quindi è necessario pensare alla pace come una prospettiva necessaria. Per questo è importante coinvolgere i giovani negli istituti superiori, medi, anche elementari perché capiscano il valore della pace e la tragicità e le lacerazioni che la guerra produce. Possiamo dire una cosa importantissima ritengo che vogliamo la pace e che quindi quello che è successo nel 43-44 ci deve insegnare a fare pace sempre. Per fare pace non bisogna comprare armi. Questo è un tema attualissimo purtroppo. Sì, è molto attuale perché le guerre ci sono intorno e in realtà questa giornata può essere un appello alle nostre istituzioni, ai governi, a tutta l'Europa per spingere verso forme di pace che salvino le vite e salvino i popoli. Per gli studenti quale può essere l'insegnamento? Per gli studenti secondo me, siamo alla quarta edizione, è un grande insegnamento perché loro si accostano a fatti avvenuti sul territorio in un periodo di guerra e ne possono trarre insegnamento per comprendere quanto è grave la guerra e che poi non serve perché la guerra in realtà poi la pagano i poveri, i piccoli, le donne, la pagano quelli che non dovrebbero pagarla.